mi chiamo bianca ciao vado a visitare una paziente ciao mi hanno punta le zanzare non preoccuparti ci penso io dottoressa oh cosa è quello? devo controllare il respiro ispira 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 è tutto a posto? sì qual è il problema paziente? mi fa prurito il collo e anche la gamba e il braccio ti servirà un unguento un unguento? è questo l'unguento? sì qui mi prude anche il braccio dovrebbe essere a posto adesso dobbiamo pulire tutto con una salviettina sì ora puliamo evviva non mi fa più prurito qualcuno mi sta chiamando pronto? è shark dottoressa dottoressa ciao cosa sta succedendo shark? mi fanno male i denti allora dovremmo lavarli adesso la dottoressa ti laverà i denti non farà male vero dottoressa? vero apri la bocca ti sei lavata i denti? ma certo una chiamata pronto? un nuovo paziente andiamo bianca serve un medico vieni con noi ok dov'è la dottoressa? sono qui qual'è il problema? continuo ad uscire quando qualcuno ha la tosse i dottori controllano la gola ho paura non c'è niente di cui aver paura davvero? sì dottoressa ecco il cucchiaio apri bene cosa? apri la bocca è tutto a posto diamo al coniglietto dello sciroppo per la tosse oh lo sciroppo ai conigli piace l'erba felizioso incredibile ho smesso di tossire urrà grazie grazie dottoressa figurati la dottoressa bianca ha curato tutti ma chissà chi la chiamerà la prossima volta ciao 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 Grazie.